per verificare una partita iva estera sarà sufficiente entrare nel sito del sistema elettronico di interscambio di dati sull'iva il sito vies questo ci permetterà di inserire la partita iva e verificarne la validità l'alternativa più veloce per chi possiede arca evolution è quella di entrare nel cliente e verificare la partita iva tramite l'apposito pulsante posto di fianco al campo della partita iva questo piccolo check in questo modo una volta premuta il pulsante verrà effettuata la verifica questo pulsante perciò vi permetterà di verificare se la partita iva è di un soggetto autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie grazie a tutti